La foto con Mara Vignè Simona Ventura tradita da Stefano Bettarini? La foto con Mara Vignè . Bettarini abbraccia Mara Vignè, la nuova alleanza turba Simona Ventura? . Nel nuovo numero di chi sono uscite oggi delle foto che ritraggono Stefano Bettarini insieme a Mara Vignè, fin qui nulla di strano, se non fosse che lui è l'ex di Simona Ventura, mentre Mara è attualmente la suocera dell'ex conduttrice di selfie e le cose cambiano. . Mara è infatti sposata con Nicola Carraro, il cui figlio è il fidanzato di Simona. . Inoltre, come tutti saprete, sembrerebbe non scorrere buon sangue tra le due donne, tanto che le due nonostante facciano parte della stessa famiglia non si incontrerebbero da molto tempo. . . . . . . . . Tante la serenità ritrovata tra i due anche per bene dei loro due figli, Bettarini sarebbe comunque liberissimo di frequentare chi vuole, anche perché sia lui che Simona si vedono molto raramente. . . Inoltre, l'avventura avrebbe attualmente altri pensieri per la testa, recentemente sono infatti uscite numerose notizie riguardo alla crisi con il suo fidanzato Gerò. . Il primo tra tutti era stato proprio Chi, il quale aveva reso nota un'intervista che la bionda conduttrice aveva fatto proprio per il giornale, in cui lasciava intendere che qualcosa non andava con il suo compagno. . 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